Poracci, bravissimi per N20, vi devo fare complimenti, in particolare a Phantom 106 per la rapidità. Ma per la prossima sfida voglio provare a implementare un piccolo sistema di anti-cheat. Che ne dite? Teste di cubo, non fate furbetti. Chissà riconoscere il gioco. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza effettuare la ricerca per immagini. Chiudiamo con questa puntata, prima del weekend, con una puntata ricchissima. Perché sono tanti gli eventi in programma per la prossima settimana. E non si sa mai che anche Nintendo decida di buttarsi in mezzo alla mischia, no? Intanto, prima di iniziare col ballo dei rumor, vi invito a darmi una grandissima mano con un piccolo gesto. Anche solo un like mi aiuta enormemente. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video per essere sicuri di ricevere la vostra dose giornaliera di rumor, potete abbonarvi al Porion, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Ora, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo direttamente dal Giappone. Dopo la conferma di presenza di Square Enix al TGS, ora sappiamo anche quali titoli verranno mostrati durante l'evento. E tra questi si annida un gioco molto atteso all'interno della libreria Switch. Mi riferisco ovviamente a Project Triangle Strategy, il tattico a turni pensato come seguito spirituale di Octopath Traveler. Il gioco è stato svelato lo scorso febbraio e, a parte una demo di Project Triangle, abbiamo perso le tracce. Sarà interessante vedere a che punto sono i lavori su questo promettente JRPG. Tra l'altro, tutta la line-up Square Enix sembra di grande impatto. Peccato, manchi solo Final Fantasy XVI. E a proposito di eventi da seguire in live, segnatevi questa data. Il 17 settembre alle 21 di sera si terrà una stream dedicata ai 10 anni di THQ Nordic. La live, tanto per cambiare, sarà presentata da Jeff Keighley. E THQ ha alzato tantissimo le aspettative, promettendo aggiornamenti su Elex ed Expeditions Rome, oltre che 6 nuovi annunci che includeranno il ritorno di franchise leggendari e sequel di titoli adorati. Di cosa si tratterà? Darksiders? TimeSplitters? Attenzione perché se torna TimeSplitters io mi sento male. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma sono in serio hype per una presentazione THQ Nordic. Secondo voi quali saranno questi 6 giochi? Qualche giorno fa abbiamo parlato del possibile abbandono di Sega da parte di uno sviluppatore leggendario, Toshihiro Nagoshi. Oggi invece parliamo di un graditissimo ritorno. Dopo 6 anni di lavoro presso Yahoo Japan, Ryuta Ueda rientra ufficialmente nei ranghi di Sega. Ueda è stato l'art director dell'originale Jet Set Radio e del suo seguito, e inoltre anche director dei primi due Yakuza su PS2. Un rientro inaspettato, ma che apre a prospettive di un certo livello. Speriamo che prima o poi Sega ritiri fuori il brand di Jet Set Radio. Bene, però ci passiamo alle notizie del giorno. Ci sono degli aggiornamenti riguardanti la questione Game Boy su Nintendo Switch Online. E si tratta di notizie positive, molto più di quello che vi aspettate. Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale, ormai sono tanti i nomi autorevoli che sono concordi nel ritenere che Nintendo sia pronta a far arrivare la sua storica console portatile su Switch. Ad unirsi ai rumor questa volta è Eurogamer, che non solo afferma che secondo le sue fonti le notizie riportate in precedenza da Nintendo Life sono corrette, ma che inoltre Nintendo starebbe lavorando per portare un'altra retro console all'interno del catalogo. Sembra un po' una sparata, ma vi ricordo che nel 2019, prima dell'annuncio ufficiale dello SNES su Nintendo Switch Online, il dataminer Hot Me Dome aveva trovato riferimenti a quattro emulatori presenti all'interno dell'app NES. I nomi in codice erano Kachikachi, Kanoe, Yoko e Count. I primi due erano gli emulatori usati per le versioni mini di NES e SNES e poi riconvertiti in app per arrivare su Switch. Yoko potrebbe fare riferimento al Game Boy e al Game Boy Color. Ma quel count, a cosa ha riferito? Siamo pronti per il GBA? O magari a sorpresa Nintendo potrebbe tirare fuori il Nintendo 64? La situazione inizia a farsi interessante. Voi cosa ne pensate? Sono tante le conferme di partecipazione che stanno arrivando per il Tokyo Game Show, la fiera di videogiochi più importante di tutto il Giappone. E nonostante si tratti di un evento a dir poco prestigioso, Nintendo anche quest'anno ha comunicato che non parteciperà. Con un post sul suo account Twitter giapponese, la grande N ha confermato che anche quest'anno darà forfè per la manifestazione, almeno in forma diretta. Offrirà supporto per risporre i titoli di terze parti che faranno la loro comparsa su Nintendo Switch. Insomma, un po' come accadde per l'anno scorso, dove, seppur non presente, la Switch ha fatto parlare di sé grazie a dei focus approfonditi su titoli di grosso calibro come Age of Calamity, sviluppato da Quai Tecmo, e Monster Hunter Rise di Capcom. Ora, non voglio fare quello che fomenta a tutti i costi l'hype, ma se Nintendo decide di non partecipare, evidentemente è perché ha già in programma qualcosa per questo settembre, no? Nintendo Direct, sei tu? Dove sei? Tutti ad aspettare un annuncio di un potenziale Nintendo Direct che non ci siamo accorti che Sony ha sganciato una bomba, mettendo in programma per la prossima settimana un PlayStation Showcase. E le aspettative intorno a questo evento, beh, sono altissime. Attenzione perché non si tratta di uno State of Play, il format che ormai abbiamo imparato a conoscere. Questa volta Sony ha in serbo uno show bello corposo, circa 40 minuti, incentrato tutto sulla PlayStation 5 e la sua futura line-up. In fondo lo avevamo detto, con il rinvio di Horizon al 2022, Sony deve assolutamente trovare qualcosa con cui aggredire le vacanze natalizie e questo showcase sarà l'occasione perfetta per sganciare qualche bella bomba. L'appuntamento è fissato per le 22 del 9 settembre e ovviamente noi lo seguiremo qui su YouTube con una bella live poraccia. Per ora sappiamo solo quello che non verrà mostrato, ovvero aggiornamenti sulla nuova generazione della realtà virtuale di Sony, quel PSVR 2 che promette di essere una vera rivoluzione. A essere mostrati, sempre secondo il PlayStation Blog, saranno sia titoli AAA che piccole produzioni indie previste per le vacanze natalizie ed oltre. Voi cosa vi aspettate? Per me ci sarà sicuramente un focus su Deathloop e anche magari Ghostwire Tokyo e perché no? Sony potrebbe decidere di chiudere con una bella bomba finale mostrando le prime immagini di God of War Ragnarok. Quali sono le vostre prediction? E chiudiamo poracci con il caos che si è scatenato con l'annuncio di tutte le versioni di Horizon Forbidden West. Situazione che mette in luce ancora una volta il modo rocambolesco con cui Sony ha deciso di gestire questo periodo di passaggio generazionale tra PlayStation 4 e PlayStation 5. Come sappiamo Forbidden West uscirà su entrambe le console e la versione PS4 potrà essere giocata su PS5 tramite retrocompatibilità, non sfruttando però così le migliorie specifiche dell'hardware. Ora, quali saranno le versioni disponibili a lancio e per il pre-order? Ovviamente le versioni standard per entrambi le console che si presenteranno con una differenza di prezzo di circa 10€. A queste si unisce una Digital Deluxe Edition che oltre ai vari bonus consentirà di avere accesso al Dual Entitlement ovvero la possibilità di giocare ad Horizon su entrambe le console con un solo acquisto. La cosa particolare però è che consultando le FAQ viene specificato come non sia possibile aggiornare la versione standard PS4 a PS5 neanche pagando e non sono neanche previsti piani per riconvertire la standard edition alla deluxe. Poracci scusate ma devo fare una precisazione mentre sto editando siccome sono boomer e anche rimbambito mi sono dimenticato di menzionare la special edition. Neanche questa darà diritto al Dual Entitlement e rispetto alla standard includerà semplicemente uno steelbook aggiuntivo è anche un mini artbook. Ma la versione PS4 Special non sarà utilizzabile né sarà aggiornabile alla versione Special di PS5 che rimangono due versioni fisiche separate. Anche le due corposissime Collectors Edition e Regale Edition garantiscono l'accesso al Dual Entitlement ma sentite qua all'interno di queste non saranno presenti i dischi dell'edizione fisica ma solo le custodie. Un po' una poracciata per Dual Limited dal prezzo di 200 e 260 dollari rispettivamente. Comunque non so voi ma trovo un po' assurdo il non poter aggiornare la propria versione fisica neanche a pagamento soprattutto in un momento storico dove Sony punta tutto sul concetto di cross-generazionalità dopo un primo cambio di rotta non da poco. Voi poracci cosa ne pensate? E questo poracci era tutto per oggi scusate il ritardo ma si sono sommate parecchie cose. Vi ringrazio in ogni caso per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo lunedì voi riposatevi nerdate duro ma soprattutto non barate. Io sono il Poro Boy Michele Entitlement ciao! Ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Potete abbonarvi al Porion il Patreon dei poracci Patreon!